Musica Abbiamo calzato la caffia, siamo nel bel mezzo del deserto a Nabk Mi confermono, siamo a Nabk Una delle tante attrazioni che offre il Domina Coral Beach E questo divertimento, con una specie di snowboard Si scivola giù dalle montagne di sabbia Uno spettacolo assicurato e quindi, perché no, un motivo in più Per venirci a trovare al Domina Coral Beach di Charm & Shake Andiamo a fare una foto Che esperienza è stata? Bellissima, anche per i bambini Alli, com'è stata? Ciao Alli, è stato bello? Sì Eh, ma tu eri aiutata dal papà, ti abbiamo visto Ma che cosa è la televisione? Ma siamo stati bravi lo stesso, diglielo È bellissimo, è bellissimo Bellissimo, voi direttamente da Napoli Napoli, sì A Charm & Shake, è la vostra prima volta? No, la seconda volta, la prima volta 15 anni fa 15 anni fa? Sì Senti, aiutiamo i nostri amici che ci seguono a casa Questo si chiama? Come si chiama? Surf sulla sabbia? Cheffia Ah, cheffia Questa è la cheffia, sì Questa è la cheffia, e questo? No, lo... Sabbia a bordo, come si chiama? Beach board? Beach board, sì Divertiti? Sì Lo proponeste, lo proporreste ai vostri amici? Provate a fare questa esperienza? Certo È una bellissima esperienza, bella proprio Sì, divertente Ok, tutto ok? Ciao, grazie Ciao No, non siamo venuti 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 Yes, yes Yes, yes Yes You, you Married me? Manuela No, tu sposi me? Ah, no No Yes Sono già sposata Eh, anch'io purtroppo Ciao, cosa ci fai qui a Charm & Shake? Con le amiche Con le amiche La nostra prima esperienza? Sì Che esperienza hai vivere Charm & Shake? Mi è piaciuta molto Mi è piaciuta molto Come mai questo spazio di vacanza in pieno inverno? Non ci vedevamo da tre anni, da quando abbiamo finito l'università E abbiamo detto, siccome adesso abbiamo questo mese libero tutte e tre Ci siamo viste qua perché sì, perché c'è il sole Perché c'è il sole? Voi arrivate da? Lecce Lecce Sicilia Sicilia? Milano Milano, Milano dove? Vicino di estate Vicino di estate, io sono di Milano Vicino a Catania Mia moglie è di Catania Lecce, io sono di Foggia Grazie ragazze, buon divertimento Amico, io sono Napoletano Ok? Sì Sì Moltissimo State per risalire? No, basta Abbiamo dato il massimo, basta Però è divertente, una delle tante esperienze da provare qui in Sharmesheik Sì Ok Sì sì Yes e sì A posto Grazie Grazie a voi Ciao 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 Sì 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 Per me sì Per me no Per te no Ma è da ritornare? Certo, altre mille volte Ma esiste questo detto popolare, mondiale che ci lasci il cuore una volta che vedi l'Africa? Sì Tu sei tornata quindi probabilmente Sì sì, certo Tu tornerai? Sì Qual è stata l'attrazione più bella che vi ha divertito immensamente? Ancora ne dobbiamo fare tutte, in realtà questa è la prima Ah è la prima, farete cosa? Facciamo Snorkeling? Snorkeling Sì Poi domani andiamo a Ras Mohamed Poi si quad e poi basta Ah dovevamo fare la cena di Cleopatra che è in forze Perché è in forze? Eh perché, perché, perché ci hanno detto oggi che forse non si fa Forse sì No invece si fa, ve lo confermo perché ci saremmo anche noi con Truman TV Giovedì sera la cena nel deserto con Cleopatra Eh, veniamo da Roma per farla Ah è vericolo Con tutte, con tutte Va bene Buon divertimento, buon proseguimento qui in Salme 6 Grazie Buon divertimento, buon divertimento Buon divertimento, buon tours Grazie a tutti. 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 E ancora tra le tante iniziative, tra i tanti divertimenti, quelli reali in mezzo alla latura, non poteva mancare la cammellata, ovvero una bella passeggiata su questi bellissimi animali. Grazie a tutti. Questa è la cammellata, altro grande evento nel deserto offerto dal Domina Coral Beach, una passeggiata sulle sponde del Mar Rosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.